Ciao sono Marco del negozio Passport. Oggi ragazzi vi voglio introdurre a un video in cui parleremo di scarpe chiodate partendo dalle scarpe polivalenti ed arrivando a spiegare quelle che sono le caratteristiche essenziali e fondamentali delle scarpe che sono specifiche e studiate per le singole discipline. Come sempre però prima di tutto vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube e a seguirci sui nostri canali social Instagram e Facebook. Ma dai che andiamo e partiamo dalla scarpa cosiddetta polivalente. Questa fondamentalmente è una calzatura che viene acquistata e usata dai ragazzi e dalle ragazze che si avvicinano al mondo dell'atletica e di conseguenza è una calzatura con cui vanno sia a correre in pista ovviamente ma iniziano ad affrontare anche qualche salto ad esempio il salto in lungo. Quali sono le caratteristiche che deve avere una scarpa cosiddetta polivalente? Fondamentalmente è una scarpa che deve essere comoda come calzata, deve avere un po' di ammortizzazione per preservare i tendini dei nostri giovani atleti perché sono in fase di crescita. Ovviamente essendo una scarpa chiodata avrà sull'avampiede una piastra dove vengono alloggiati i vari chiodini che servono appunto per fare l'attività e quindi diciamo che una scarpa polivalente è una calzatura con cui si possono affrontare tutte le discipline. Ovvio che affrontare tutte le discipline con questo tipo di scarpa non si avranno i migliori risultati perché dopo andremo a vedere quali sono le caratteristiche delle calzature per le singole discipline ma per un pubblico giovane e appunto come si diceva prima in fase di crescita è fondamentale avere una calzatura che innanzitutto preservi tendini e piede che abitui il ragazzo e la ragazza a usare una scarpa chiodata perché è ovvio che la sensazione di una scarpa chiodata è diversa rispetto a una scarpa normale da corsa e che di conseguenza sia una calzatura che è propedeutica in un secondo momento ad affrontare quelle che sono le discipline specifiche che si andranno ad affrontare. Partendo appunto dalla calzatura polivalente in questo caso abbiamo una scarpa adidas passiamo per restare nelle discipline in pista a una scarpa tipo questo modello di nike in questo caso abbiamo una scarpa dedicata al mezzo fondo di lunga distanza quindi 5-10 mila metri in pista è una calzatura che allo stesso tempo può essere tranquillamente usata anche per fare campestre. Le caratteristiche fondamentali e che contraddistinguono questo tipo di scarpa sono l'intersuola che come vediamo rispetto a quella precedente è leggermente più alto quindi una scarpa più ammortizzata e protettiva, la sede dei chiodi è innestata all'interno della suola in questo caso non abbiamo una piastra in plastica infatti la scarpa mantiene una certa flessibilità. Questa appunto è una calzatura che serve per affrontare al meglio le distanze medie e medio lunghe. E se invece i nostri atleti volessero fare un mezzo fondo veloce sempre in pista allora la scelta potrebbe ricadere su un modello tipo questo che tengo in mano adesso stiamo parlando del modello Zoom Mamba 5 di Nike questa è una calzatura per il mezzo fondo veloce quindi 800, 1500 e 3000 metri, 3000 siepi ovviamente. In questo caso abbiamo una scarpa molto leggera, abbiamo una scarpa con una pianta particolare per alloggiare in maniera perfetta il piede ma lasciare che le dita stesse possano muoversi, una scarpa che se guardiamo sull'intersuola ha una intersuola minimal quindi molto bassa per cui molto leggera la scarpa ma per ovvi motivi poco ammortizzata. Allo stesso tempo però abbiamo una calzatura che mantiene una piastra in plastica sull'avampiede che è prolungata anche sulla fase del mezzo piede e questo serve appunto perché? Perché nel mezzo fondo veloce si cerca molto il ritmo quindi sono delle competizioni dove il piede lavora sempre molto in spinta e si cerca appunto reattività, leggerezza, confort di calzata e in maniera specifica per quanto riguarda i 3000 siepi abbiamo una scarpa con una tomaia particolarmente leggera che si asciuga rapidamente visto che ci sono anche le barriere con l'acqua da affrontare. Sempre rimanendo su calzature da mezzo fondo passerei adesso a una chicca, a una novità, in questo caso abbiamo Adidas Adizero Ambition, come vediamo una calzatura molto particolare perché quello che lo contraddistingue e la distingue rispetto alla zoom mamba è la presenza di una piastra, anzi di un'intersuola molto importante sia sulla parte del tallone e anche sull'avampiede. Questa è un po' la nuova frontiera delle calzature da pista e chiodate quindi delle calzature che abbiano un'impostazione tendenzialmente veloce per far sì che il piede lavori molto in spinta ma che allo stesso tempo abbia anche un certo tipo di intersuola che dà protezione anche sull'avampiede ma che aiuti a chiudere perfettamente la spinta e ad avere una corsa molto naturale ma soprattutto molto fluida. Andiamo adesso a scendere con i tempi e con distanze e passiamo alle cosiddette scarpe da velocità, in questo caso abbiamo due modelli, ti proponiamo anzi due modelli Nike e Adidas. La caratteristica fondamentale di questa tipologia di scarpe sono la rigidità dell'intersuola, infatti abbiamo delle piastre completamente intere dalla punta al tallone, sono calzature che flettono veramente poco, l'inclinazione della scarpa come si può notare è una scarpa che ti fa lavorare solo sull'avampiede ed è per questo motivo che è una scarpa appunto da sprint, parliamo di una scarpa da 100-200 metri o 110 ostacoli dove la gara è relativamente breve e dove la necessità è leggerezza, propulsione e spinta sull'avampiede. E come promesso passiamo dal giro di pista ai vari tipi di pedane, partiamo con la classica scarpa da salto in lungo, in questo caso deve essere una scarpa che è un compromesso fra una scarpa da velocità e una scarpa che protegga bene il piede e che ci consente uno stacco preciso e si spera appunto molto lungo. Ecco che la scarpa è costruita con queste caratteristiche, leggermente inclinata per avere una fase di rincorsa molto reattiva e molto propulsiva, ma allo stesso tempo è una scarpa che ci aiuta ad avere un ottimo stacco, una scarpa in questo caso che abbiamo 3, 5 e 7 chiodi, ci aiuta appunto ad avere un ottimo stacco per poi scendere e si spera appunto il più lungo possibile. La tomaia è particolarmente robusta e costruita per proteggere il piede sia in fase di rincorsa ma soprattutto quando si entra nella buca. Una seconda calzatura sempre per il salto in lungo, parliamo in questo caso di Nike, ha le stesse caratteristiche di prima, la particolarità di questa calzatura è l'inserzione sull'avampiede di questo cuscinetto con l'aggiunta anche di una piccola piastra per aumentare ed ottimizzare quella che è la fase appunto sia di rincorsa ma soprattutto di stacco. Altra scarpa e passiamo al salto triplo, una calzatura che rispetto alle scarpe classiche da salto in lungo è leggermente più piatta come impostazione per avere una miglior falcata sia nella parte di rincorsa che nei due primi salti, però allo stesso tempo è una scarpa che ci aiuta a lavorare bene sull'avampiede perché l'ultimo salto, quello di stacco che ci fa arrivare alla buca, deve essere appunto molto propulsivo ma allo stesso tempo preciso e molto reattivo direi. E dalla pedana del salto in lungo spostiamoci leggermente e andiamo alla pedana di salto con l'asta, in questo caso abbiamo una calzatura molto simile alle scarpe da lungo per certi aspetti, quello che viene privilegiato è leggermente l'altezza sul tallone della tomaia, la protezione sia dell'avampiede che del tallone con questa particolare costruzione. Per quanto riguarda i chiodi abbiamo una scarpa che ha 3, 5 e 6 chiodi, la piastra è posizionata sull'avampiede e sul mesopiede per avere la fase di rincorsa come si diceva prima molto reattiva ma che ci consente di avere uno stacco allo stesso tempo preciso ma che sia molto performante. Dopodiché passiamo a una calzatura dedicata al salto in alto, in questo caso la prima caratteristica che salta subito all'occhio è che a vederla sembra una calzatura da running molto tradizionale come quelle che si trovano per andare a correre e che appunto non sono chiodate. La caratteristica però, eccola qua, la vediamo, una piastra tutta lunghezza quindi una scarpa abbastanza rigida se vogliamo in fase di flessione ma che serve per ottimizzare la fase di rincorsa e di slancio. La particolarità di queste calzature è il posizionamento dei chiodi sia sul tallone che sull'avampiede. In questo caso abbiamo una calzatura che è diciamo universale nel senso che non è studiata per stacco sinistro o stacco destro. Sul mercato però possono esistere delle calzature che sono specifiche per stacco sinistro oppure stacco destro. In questo caso come detto è universale. Passiamo adesso a una calzatura molto particolare. In questo caso abbiamo una calzatura dedicata al lancio del giavellotto. Una scarpa appunto molto particolare perché come il salto in alto abbiamo una scarpa che ha i chiodi sia sul tacco che sull'avampiede della scarpa. Una calzatura leggermente più alta. È particolare perché? Perché nel lancio del giavellotto bisogna avere una fase di spinta diciamo di corsa molto molto rapida se vogliamo ma è altrettanto fondamentale la coordinazione e l'ultimo passo prima del lancio. In questo caso abbiamo una scarpa che ci consente di avere grip anche laterale per far sì che il piede possa appoggiare in più posizioni ma allo stesso tempo essere sempre molto stabili a terra e non farci disperdere energia in fase di rilascio del giavellotto. Ultima ma non meno importante la classica scarpa da pedana. In questo caso abbiamo una scarpa senza chiodi perché è destinata alla pedana quindi lancio del peso, lancio del disco o del martello. La caratteristica di questa calzatura è la densità e la mescola della suola. Una mescola che deve darci grip, trazione e facilità di rotazione per far sì che il coordinamento del corpo con il lancio dell'oggetto quindi che sia il peso, il disco e quant'altro sia coordinato e non ci sia dispersione di energia dalla fase di rotazione alla fase di lancio. Per questo vengono utilizzate questo tipo di mescole molto particolari che ci danno il massimo di performance quando andiamo sulla pedana appunto del lancio. Bene ragazzi spero innanzitutto che questo video vi sia piaciuto ma soprattutto che sia stato esaustivo e chiarificatore per i vostri eventuali dubbi. Anzi se avete qualche dubbio o domanda i commenti qui sotto sono sempre a vostra disposizione. Come sempre vi invitiamo a venirci a trovare nei nostri negozi a Busche o a Signoressa e se abitate lontano perché no anche sul nostro store online sempre ben rifornito anche di scarpe chiodate che si chiama www.passport.it. Ciao!